Ciao a tutti da JJR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presono Studio One e su altri software audio sono presenti sul nostro sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Ciao a tutti colgo l'occasione per introdurre una serie di nuovi tutorial che ci terranno compagnia per tutta l'estate dove tratteremo in maniera accademica ma abbastanza approfondita gli argomenti più hot quindi più caldi nel periodo appunto più caldo come anche abbiamo già fatto in altri video e che faranno da intro ai miei prossimi corsi professionali sull'ascolto critico sul mix e sul mastering pro. I corsi saranno molto intensi ci saranno centinaia di ore di esercitazione insieme da usare non soltanto con Studio One ma anche con le altre Do. Tutta la mia esperienza sarà completamente a vostra disposizione dalla programmazione del lavoro fino alla realizzazione professionale delle vostre produzioni. Toccheremo diversi generi musicali e capiremo insieme come rubare dei trucchi e segreti dai vari producers e sound engineer di fama mondiale con cui ho collaborato negli anni e come ovviamente trasportare le tecniche tipiche magari di un genere musicale verso un altro genere musicale completamente differente. Scopriremo insieme tutti i tools essenziali per poter calibrare il nostro ascolto, calibrare il nostro outboard, parleremo del trattamento della stanza, l'uso e la scelta dei microfoni, delle casse e delle attrezzature da studio pro e home. Il mio sistema e metodo di esposizione ed intrattenimento lo conoscete già e se siete su questo canale lo apprezzerete ancora di più nei prossimi video settimanali e ovviamente anche nei corsi che faranno da completamento a questi video introduttivi. Vi ricordo che l'iscrizione alla mia piattaforma www.proaudiolearning.com è completamente gratuita e vi dà accesso a contenuti esclusivi sempre in forma gratuita, un annuale in pdf che ho appena finito di scrivere e alcuni video dedicati a quei manuali. Chi poi acquisterà i corsi avrà in omaggio anche plugin e librerie professionali da utilizzare liberamente nelle proprie produzioni. Oggi arriviamo forse ad uno dei tool più incredibili che abbia mai avuto per le mani Fire the Pan di Acustica Audio. Sono stato molto felice di aver collaborato alla realizzazione finale ma sarà sicuramente uno dei plugin must have del 2022. Il pan come molti sanno è quello slider o controllo normalmente posto sopra il father per portare appunto il segnale da destra a sinistra e viceversa all'interno del panorama stereo che risulta ovviamente sul master out della nostra Do. In realtà il pan o il controllo di pan è molto molto di più di questo e segue delle regole ben precise anzi delle leggi preimpostate da ogni costruttore di outboard del passato e che hanno reso uniche alcune delle console più famose nel mondo. Vediamo di capire insieme il principio base della pan law o legge del pan. Il concetto di pan law è un discorso molto discusso che genera spesso confusione sui vari tutorial che si trovano sempre qui su YouTube. Come vedremo gli errori commessi sia nella spiegazione sia nell'utilizzo sono diversi spesso per mancanza di nozioni basiche sull'audio. In questa occasione cercherò di rendere più chiaro il concetto toccando tutti gli aspetti di questo tool ed il suo utilizzo. Che cos'è il pan? Non possiamo parlare di pan o panning o panoramica in italiano senza parlare del segnale stereo. Un segnale che coinvolga quindi più fonti sonore e nell'era moderna un segnale appunto più allargato come concetto nel surround o nell'atmos o nell'immersive audio. Il pan è quel tool o controllo atto a spostare quindi un suono nel panorama musicale o sound stage stereo o surround che sia. Pensando al segnale stereo standard LR ogni volta che left right ogni volta che spostiamo un suono verso left o verso right si parla di spostamento del panning nell'una o nell'altra direzione come anche quando parliamo di panning centrale. Ma visto che con due casse monitor non abbiamo una cassa centrale ma percepiamo comunque un centro a causa del cross feed delle due fonti sonore entriamo nel discorso della legge del panning o pan law anche se non esiste una vera e propria legge diciamo più una convenzione. Saltiamo il discorso sull'LCR che viene più spesso utilizzato nelle situazioni live ma rimaniamo ancorati al discorso left right che utilizziamo in studio normalmente. Ci sono diverse ragioni le vedremo un po' tutte nel corso del video una delle tante è evitare il fenomeno del masking di alcune frequenze se vengono prodotte magari da strumenti o sorgenti simili che se sovrapposte si nascondono cancellandosi a vicenda per effetto della controfase o anche per motivi artistici dove per esempio programmare un suono che si sposta da destra a sinistra durante l'arrangiamento o per evidenziare appunto più il side rispetto al mid può essere usato quindi per creare anche una disposizione degli strumenti sul panorama stereo. Esistono diverse applicazioni del pan a livello professionale. Entriamo in un momento più nerd questa parte del video è dedicata ai miei follower meno tecnici ma che vogliono un'infarinatura dei concetti di base cercherò di spiegare il rapporto tra V meter e DBFS in maniera molto molto semplice e meno scientifica un avvertimento quindi per i miei follower più pro non vi allarmate. I concetti che sto per spiegare sono complessi ma la spiegazione dettagliata richiederebbe un video molto molto più lungo di diverse ore. Li affronteremo comunque insieme ad altri ingegneri in altri video che vedremo prossimamente quindi verranno gli argomenti spezzettati nei vari video. Non possiamo ancora parlare di pallò se non introduciamo il discorso di headroom. Nel caso usassimo il nostro sistema digitale quindi la nostra Do o mixer digitale in combinazione con l'outboard e quindi dell'hardware esterno dovremo necessariamente calibrarli per farli convivere nello stesso sistema. Dobbiamo quindi capire come massimizzare le capacità di headroom che entrambe i domini possiedono. Il concetto di calibrazione in ambiente digitale è molto molto diverso da quello che si applica nel mondo analogico. Le device o apparecchiature analogiche sono calibrate per lavorare ad un valore indicativo di 0 dB VU oltre il quale si supera la soglia quindi la capacità del circuito facendola entrare in distorsione a volte neanche sgradevole e ricercata. Nel dominio digitale invece il sistema di calibrazione si misura in full scale ossia 0 dB FS come tetto massimo cioè rappresenta il limite massimo di funzionamento del convertitore oltre il quale il suono si compromette irreparabilmente andando oltre lo 0 dB FS si va quindi in quello che viene chiamato clipping digitale. Smette quindi di esistere il suono come lo concepiamo. La nostra Do ci avverte sempre con una lucina rossa in fondo al meter che troviamo sul mixer. Vedremo questi concetti spiegati molto più approfonditamente nel prossimo video sul gain staging quindi capiremo come si usa effettivamente il gain staging e gli errori più comuni che spesso vengono commessi in quel sistema. Per i nostri esperimenti apriamo la nostra Do nel mio caso Studio One e inviamo una sinusoide da 1 kHz nel nostro view meter come se stessimo nel mondo analogico per cui andiamo su aggiungi traccia questo possiamo farlo su qualsiasi Do la chiameremo appunto generator o tone generator come preferite apriamo un qualsiasi plugin di generazione di sinusoidi nel caso di Studio One ne abbiamo uno all'interno ma anche le altre Do lo possiedono eccolo qua tone generator lo mettiamo in evidenza e prima di accenderlo quindi prima di diventare sordi puntiamo appunto la nostra frequenza su 1 kHz 1000 Hz abbassiamo il nostro master out e accendiamola in questo momento stiamo vedendo il nostro la nostra sinusoide che va nel nostro canale mono e che finisce poi nel master ascoltiamo la tolgo per non infastidirci durante la spiegazione inseriamo ora il nostro view meter anche questo è onnipresente all'interno delle varie Do prendiamo nel nostro caso di Studio One il view meter di Studio One eccolo qui come vediamo c'è già qualcosa di un po' strano ossia possiamo notare che non esiste una vera compensazione tra il sistema 0 dbfs ed il sistema view meter in questo caso infatti stiamo emettendo la sinusoide a 0 dbfs che viene rilevata come 0 db vu dal nostro view meter questo non è possibile proprio per le diverse caratteristiche che i due sistemi analogico e digitale possiedono le scale di misura non possono essere sovrapposte uno a uno il sistema vu infatti è basato su una calibrazione ben precisa che rapportata al mondo digitale varia a seconda dei bit coinvolti nel campionamento del convertitore tutti i convertitori ormai sono a 24 bit quindi prendiamo per buono un riferimento di meno 18 db fs mettiamo comunque le mani avanti ricordiamoci che questi valori sono arbitrari perché ogni outboard potrebbe avere un proprio 0 db vu ma come vediamo nella tabella comparativa standard diciamo abbiamo lo 0 bu settato sui meno 18 db fs a 24 bit quindi ci riferiremo a questa tabella nelle prossime spiegazioni tutto lo spazio disponibile tra meno 18 db fs e 0 db fs quindi tutto questo spazio qui viene chiamato ed room come anche lo stesso spazio che troviamo tra 0 bu e più 6 sul meter analogico la differenza è che nel caso del mondo analogico possiamo sforare lo 0 andando in distorsione senza compromettere troppo il segnale audio nel mondo digitale sforare il limite dello 0 db fs comporta una vera e propria distruzione del segnale e non più distorsione nel modo in cui intendiamo normalmente se fossimo nel dominio analogico andare oltre lo 0 db vu spesso ci regala saturazioni e quindi aumento del contenuto armonico ed è a volte quello che viene ricercato proprio dal mix analogico lo stesso principio che alcuni plugin di emulazione analogica possiedono al loro interno nel caso in cui i nostri convertitori debbano convivere con dell'outboard esterno analogico è logico pensare che 18 db di ed room quindi quello spazio che abbiamo visto a disposizione non possa corrispondere allo stesso spazio che abbiamo appunto sui view meter analogici in questo caso la rappresentazione digitale che vediamo su studio one per cui va comunque fatta una calibrazione a sé per ogni tipo di convertitore rispondono tutti in maniera diversa vedremo questo argomento approfondito in un video sull'outboard analogico nel sistema ibrido in questo modo saremo certi di una corretta connessione tra sistema digitale e sistema analogico ovviamente controlliamo sempre che il nostro convertitore abbia questi setting in uscita ed in ingresso nel mio caso il mixer rme ve lo faccio vedere mostra e permette questa configurazione come vediamo selezionabile qui da meno 10 dbv a più 4 dbu high gain e più 24 dbu per interfacciarsi come vediamo anche in ingresso con le diverse apparecchiature professionali analogiche come vediamo è molto complicato concentrarsi bene su un argomento su un singolo argomento evitando di divagare e toccare argomenti adiacenti e conseguenti allo stesso a volte mi vengono puntualizzate delle osservazioni sulle mie spiegazioni non troppo profonde perché in alcuni come in questo esempio si rischia sempre di fare video lunghi ore o brevi che precludono invece la conoscenza di alcune nozioni ritorniamo nella nostra DO e quando apriamo la DO controlliamo quindi che il nostro segnale sinusoidale posto a meno 18 db fs sia poi riregolato quindi compensato dal view meter in questo caso abbiamo proprio un potenziometro dedicato a questa compensazione andiamo su 18 e vediamo che ora il segnale digitale si trova esattamente a zero view come se fossimo nel mondo analogico come noteremo ora sul view meter del canale sorgente siamo a zero view ma se noi aprissimo il view meter quindi lo spostiamo sul master out ci accorgiamo che non siamo più a zero view che cosa è successo abbiamo effettivamente una diminuzione del segnale sul master output di meno 3 db questo è l'effetto di quello che viene chiamata la legge del pan o pan low perché è stata inventata la pan low quando un suono mono è posizionato al centro del bass stereo quindi in questo caso del nostro master output che sta ovviamente processando la sinusoide che entra all'interno e che ovviamente esce sui due speakers del mio studio abbiamo effettivamente lo stesso segnale emesso da tutti e due gli speakers e non da uno soltanto ma se non esistesse la legge di pan quindi la pan low lo percepiremmo come più alto di volume esattamente un aumento percettivo di più 3 db per ogni canale ossia come un raddoppio di volume su scala logaritmica non lineare mi raccomando non dimenticate questo fattore perché è fondamentale e lo vedremo presto sul video riguardante il gain staging ricordiamoci che i db si usano per misurare il rapporto tra due potenze o tra due livelli nel caso della potenza il logaritmo è a base 10 ed otteniamo un raddoppio di potenza corrispondente a più 3 db nel caso dei db SPL quindi dei livelli il logaritmo è a base 20 ed otteniamo un raddoppio corrispondente di più 6 db li vedremo poi nel dettaglio e analizzeremo approfonditamente il discorso e l'argomento dei db insieme a Silvano Ribera in un prossimo video quando un segnale passa da uno speaker all'altro è necessario simulare quindi l'aumento di volume in uno speaker e la diminuzione progressiva nell'altro in questo modo creiamo un vero crossfade tra i due speakers in che proporzione questo deve avvenire sarà quindi la pallo a deciderlo quindi farà la pallo da scelta per questo tipo di transizione questo crossfade però non può avvenire in maniera lineare quindi progressiva mano mano che il segnale passa da una cassa all'altra perché altrimenti quando il suono sarà al centro lo percepiremmo troppo basso ridotto rispetto a quando ascoltiamo da un solo canale infatti è causa quindi la progressione è lineare è causa di una diminuzione di meno 6 db anziché meno 3 db per evitare quindi di percepire questa perdita eccessiva di dinamica dovremo applicare un algoritmo di constant power low che si muove appunto su scala logaritmica abbiamo quindi sempre un aumento del volume ma meno percepibile ogni do che utilizziamo che sia studio one pro tools logic o cubase gestisce il sistema di pan in base ad uno standard che ora andremo a vedere in studio one possiamo accedere a questi parametri attraverso un plugin chiamato dual pan ma per il nostro esperimento utilizzeremo invece il nuovissimo fire the pan di acustica audio perché possiede caratteristiche uniche vedremo poi nel dettaglio l'uso e le varie funzioni all'interno di questo plugin ma per un eventuale esperimento vanno bene tutti i plugin in grado di alterare la pan low l'importante è che possano compensare quella della do già esistente nel progetto ed applicarne una nuova di conseguenza quindi non sovrapporre due pan low la do di default possiede una pan low di meno 3db che non possiamo escludere ma possiamo compensare appunto attraverso fire the pan almeno in studio one mentre in pro tools è possibile impostarla di default su valori differenti ma in maniera generale su tutta la song soltanto vedremo perché c'è della differenza il pan è quindi la compensazione in livello di un segnale che viene spostato dall'estrema destra all'estrema sinistra in gergo hard right to hard left o viceversa e che si troverà al centro nel momento di passaggio dall'uno all'altro ma esiste una pan low standard? standard è un parolone come vedremo diciamo che si è scelti un valore di riduzione di meno 3db perché viene considerato standard da molti mixer digitali come anche da molti mixer analogici e da tutte le do in commercio mentre ci sono delle variazioni di valore di compensazione sulle console analogiche soprattutto quelle broadcast e ovviamente quelle più famose prendiamo ad esempio una console come la famosa SSL 4000 e scopriamo che la sua pan low è settata a meno 4.5db questo accade perché è una pan low di compromesso tra quella lineare meno 6db e quella algoritmica meno 3db una scelta appunto di SSL vedremo poi più avanti perché cosa comporta questa variazione? queste micro variazioni di compensazione moltiplicate per ogni traccia dove appunto utilizziamo il pan risulterà come una variazione di percezione tra mid e side generale che ci mostra un side più esposto rispetto ai suoni che si trovano nel mid anche questa è una caratteristica insieme alla distorsione armonica e le risposte in fase date dai crossfeed delle console analogiche che contribuiscono alla definizione di emulazione analogica di una console a differenza delle console mixer però le DAW possono modificare questo valore di pan low solo anche su alcuni bass stereo attraverso appunto l'uso di un plugin come faremo adesso con Fire The Pan non molti sanno che nelle schede audio professionali è possibile selezionare la pan low del mixer della scheda audio e questo influisce molto anche l'uso dell'outboard esterno che viene quindi coinvolto nella scheda audio nel caso che l'outboard ad esempio emuli la pan low di altre apparecchiature è necessario saperlo e compensarlo prima di tornare all'interno della DAW questo valore di pan modificato influenza anche la somma dei due canali left più right quando noi trasformiamo ad esempio in mono il nostro mix la somma dei canali LR avviene in modo lineare e non logaritmico alcuni infatti impostano una pan low più lineare come ad esempio meno 6 dB per poter avere un segnale mono risultante allo stesso identico livello di bilanciamento del mix stereo perché sommando i due canali si avverte un aumento del segnale di più 6 dB FS quindi più avvertibile quando il file poi è mono nel caso fossimo al limite ad esempio del nostro meter digitale quindi avessimo dei picchi a 0 dB FS quando ci troveremo ad esportare in mono avremo il segnale che eccederà di più 6 dB FS andando ovviamente in clipping digitale ovviamente spostando il segnale da destra a sinistra avremo come pan low impostato meno 6 dB noteremo molto di più l'abbassamento del segnale mid che si trova al centro facciamo un breve esempio facciamo ora una serie di piccoli esperimenti utilizzando insight di isotope e fire the pan di acustica audio e sotto vediamo il level meter di studio one la prima cosa da fare è inserire ovviamente fire the pan sul master output togliere la pan low di studio one quindi compensarla a più 3 quindi in questo caso verrà automaticamente portata a zero quindi avremo un pan low in cui se spostassimo un suono da destra a sinistra nel momento in cui arriverà al centro avremo un aumento di volume percepito di più 3 dB ed applichiamo ora la pan low di meno 6 dB quella appunto lineare quindi linear meno 6 dB escludendo ovviamente il plug in torniamo alla pan low originale di studio one che è meno 3 facciamo caso ora mentre ascoltiamo il brano al segnale centrale quindi facciamo caso ai suoni che si trovano nella parte centrale del segnale quindi cassa rullante e ovviamente anche il basso e vediamo ascoltiamo che cosa succede questa è la pallo originale e questa è quella appassata se però poi noi mettiamo in mono il master output risulterà bilanciato con il nostro mix e quindi non avvertiremo sentiamolo adesso lo stesso effetto con la pallo in spalla torniamo sul nostro esempio di test e spostiamo ora usiamo il nostro segnale mettiamo il level meter pure ora spostiamo il segnale verso sinistra come vediamo ritorna a sinistra a meno 18 come partiva inizialmente il segnale della sinusoide ma diminuisce progressivamente verso il centro di 3 dB perché la 2 è impostata in questo modo portandosi a meno 21 e poi riaumentando a meno 18 quando ci spostiamo sul canale destro in questo modo quando noi spostiamo il pan non abbiamo una percezione di aumento del volume quando il segnale passa nel centro perché si usa allora il controllo del pan il controllo di pan è uno strumento estremamente utile e creativo non soltanto per spostare i suoni tra i canali destra e sinistra quindi posizionarli nel soundstage del mix per una questione diciamo artistica ma molte volte ci aiuta ad evitare problemi di mascheramento o masking ne abbiamo accennato in precedenza nel video di alcune frequenze due suoni simili che si sovrappongono nel panorama stereo potrebbero cancellarsi totalmente o in parte per un problema appunto di controfase vedremo poi un video su fase e polarità molto presto ma se uno dei due lo pampottiamo diversamente anche di pochissimo all'improvviso questo sfasamento cambia radicalmente comportamento facendoli convivere insieme come non accadeva prima potrebbe essere il caso ad esempio di un coro sulla voce o anche di un duetto tra due cantanti che cantano insieme ad esempio una parte sulla stessa ottava spostando di pochissimo il pan dell'uno o dell'altro nei momenti di sovrapposizione miglioriamo la percezione delle due voci possiamo ad esempio nel caso di un'orchestra virtuale spostare gli strumenti nel panorama stereo come e se effettivamente fossero disposti su un palco quindi ad esempio i violini a sinistra e i violoncelli a destra dandoci un aumento della percezione della realtà anche se la composizione è completamente virtuale come analizzatore utilizzo tantissimo insight di Isotope lo trovo veramente molto accurato e mi permette di vedere ovviamente meglio il comportamento dei segnali come vediamo adesso la sinusoide è qui al centro ma spostandoci possiamo vedere come appunto il segnale si muova nel panorama stereo nel trattamento del segnale stereo come vediamo il pan assume un comportamento quasi elementare ma diventa invece fondamentale quando ci troviamo a mixare in surround o in atmos dove il pan diventa tridimensionale e ci permette di poter di far spostare il suono sugli assi per muoverlo appunto tra gli speakers ci occuperemo del trattamento dell'atmos del sistema ad oggetti in un altro video un altro uso possibile della scelta di una panlò differente potrebbe essere in fase di arrangiamento potremmo ad esempio impiegarlo quando abbiamo bisogno di spostare un suono da destra a sinistra senza però renderlo troppo percepibile al centro dove ad esempio sta suonando la batteria o sta cantando appunto una voce in questo caso potremmo impostare fire the pen su un bass relativo a questi suoni che si muovono appunto destra e sinistra ed applicare una panlò di meno 6 db affinché quando il suono passi appunto al centro dove si trovano gli strumenti principali sia meno invasivo finalmente andiamo a vedere come si usa fire the pen quando Giancarlo mi chiamò dicendomi che stava facendo un plug-in sul pen sul principio l'idea ci sembrava divertente ma subito dopo risultò assolutamente geniale soprattutto se inserita in un contesto acustica audio dove effettivamente si veniva dall'esperienza di campionamento analogico molto analitica e precisa dove effettivamente l'uso di un plug-in in grado di controllare e modificare la panlò era più geniale che scema come abbiamo visto manipolare la panlò ha diversi vantaggi ed usi nelle fasi di mix e poterlo fare con un plug-in che corregge e compensa quella della DO senza dover reimpostare tutto il progetto risulta assolutamente vincente ad esempio in studio one come vi dicevo la panlò è fissata a meno 3db come anche in cubase ma non può essere alterata se non inseriamo fire the pan appunto nel master che lo compensi e la modifichi in altro modo non solo se ad esempio riceviamo degli stems da mixare o masterizzare provenienti da altre DO o da altre console analogiche come possiamo riavere lo stesso balance se non possiamo rimpostare la stessa identica panlò nel nostro progetto Fire the pan riesce a farlo rimpostando quindi la panlò da cui provengono gli stems avremo sicuramente lo stesso identico balance iniziale di chi ha registrato e premixato Fire the pan infatti non include soltanto la panlò delle apparecchiature hardware o delle varie console mixer originali ma anche le panlò delle diverse DO l'interfaccia come vediamo è estremamente semplice un po' tutta la serie Fire che poi analizzeremo man mano nei nostri video è semplice ma estremamente funzionale oltre che iper leggera vediamo subito una manopola centrale in questo caso appunto il pan che sposta il segnale da destra a sinistra troviamo qui in basso la compensazione fondamentale per annullare quella della DO oppure lasciarla su 0 se non vogliamo modificarla e sommarla ad una panlò differente ricavabile qui appunto dal menu in alto come vediamo abbiamo sia panlò di carattere digitale sia di carattere analogico o anche panlò che agiscano soltanto sul segnale mid o side quindi come vediamo abbiamo opzioni veramente avanzate per poter manipolare questo sistema in sostanza un sistema di controllo di pan mai visto precedentemente è come ho detto in apertura del video un tool molto molto sottovalutato ma che fa la differenza tra un sound engineer pro ed uno entry level questo come altri tools di analisi e calibrazione che trasformano radicalmente i mix e i master da amatoriali a professionali ecco perché è bene sempre studiare approfonditamente le basi di questa disciplina per chi è arrivato fin qui ho trovato degli articoli relativi alla panlò e alla sua storia se non vi siete stancati andiamo avanti altrimenti lasciate un like e attivate la campanella per essere avvisati dei prossimi tutorial queste lezioni intensive fanno parte di un prossimo corso chiamato how to listen e how to mix che troverete presto sul mio sito www.proaudiolearning.com iscrivetevi quindi alla piattaforma dei corsi è gratuito e potrete avere alcuni video e pdf in forma gratuita prima di decidere se acquistare il corso ritorniamo alla storia secondo diverse fonti e come interessante curiosità storica negli anni 30 la disney corporation testò diverse leggi di pan su soggetti umani e scoprì che il constant power panning era preferito dagli ascoltatori poi negli anni 50 la bbc condusse un esperimento simile e concluse che il compromesso meno 4.5 fosse la legge di pan migliore ora non sappiamo quasi nulla dei dettagli di questi esperimenti ma i loro risultati potrebbero avere un senso se ipotizziamo che la disney si sia concentrata sulle sale cinematografiche e la bbc sul pubblico televisivo approfondiamo un po' questo punto tutto dipende dalla situazione di ascolto cioè come sono posizionati i diffusori e quali sono le dimensioni della stanza dove è collocato l'ascoltatore e possiamo aspettarci che l'ascoltatore rimanga nello stesso posto se i diffusori sono posizionati l'uno a fianco all'altro in una stanza piccola con pochissimo riverbero o se l'ascoltatore si trova nello sweet spot si può ragionevolmente prevedere che le fasi dei segnali provenienti dai due diffusori si sommino in modo costruttivo almeno alle frequenze più basse comportandosi praticamente come un unico diffusore vediamo un disegno di questa ipotesi in questo caso i segnali sono in fase in modo che le ampiezze di destra e sinistra si sommino i suoni che vengono orientati verso il centro sperimenteranno quindi come vi dicevo prima un aumento fino a più 3 db di incremento con un panning di potenza costante ma un massimo di solo 1.5 db di incremento utilizzando un compromesso di meno 4.5 quello della bbc pertanto la regola dei meno 4.5 db potrebbe garantire un panning di volume più uniforme uscendo fuori dallo sweet spot è anche possibile che la bbc considerasse gli apparecchi televisivi mono in cui i segnali destro e sinistro sono aggiunti perfettamente in fase in questo caso il compromesso di meno 4.5 db fornisce sì un aumento ma di solo 1.5 db ai segnali con panning centrale rispetto ad un aumento di 3 db con il panning a potenza costante ricordiamo che il panning lineare è ideale per la riproduzione mono in quanto i segnali con la posizione centrale non vengono amplificati affatto tuttavia il panning lineare comporta il problema del buco nel mezzo che abbiamo sentito prima per la riproduzione quando siamo in modalità stereo dall'altra parte avremo ad esempio invece una situazione differente i diffusori posizionati lontano l'uno dall'altro in una stanza grande dove le fasi non si sommano in modo costruttivo come si può vedere appunto in quest'altra figura in questo caso è probabile che gli ascoltatori non siano sempre posizionati nello sweet spot probabilmente ci sono più ascoltatori posizionati a distanze e ad angolazioni diverse dai diffusori come ad esempio se ci trovassimo in una sala cinema in questa situazione ci si aspetterebbe che il constant power panning produca un volume più uniforme in tutte le posizioni del panning date le variabili della posizione dell'ascoltatore del posizionamento dei diffusori e della possibile conversione del segnale stereo in mono non esiste una come vediamo non esiste una soluzione universale che ottimizzi il panning sia il constant power panning sia il compromesso di meno 4.5 dB sono ampiamente utilizzati ed entrambi sono da preferire al panning lineare di meno 6 dB in conclusione le leggi fondamentali del panning riguardano il modo in cui il materiale verrà ascoltato se si vuole che il suono posizionato dal pan venga percepito dal punto di vista acustico come se rimanesse a volume costante indipendentemente dalla posizione del pan allora l'attenuazione centrale sarà di meno 3 dB quella standard che troviamo in tutte le due questo perché la somma acustica dei due segnali identici aumenta il volume percepito di 3 dB questa è quindi la legge da scegliere se il pubblico ascolterà soltanto tramite diffusori stereo tuttavia se si vuole che il suono posizionato dal pan sia percepito come un livello costante quando viene sommato in mono l'attenuazione centrale deve essere di meno 6 dB in forma lineare perché la somma elettrica dei due segnali identici crea un nuovo segnale con un'ampiezza maggiore di più 6 dB e quindi questa legge è da scegliere se il pubblico ha la possibilità di ascoltare una somma mono come nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive o in un locale o in discoteca o appunto attraverso un telefono cellulare o un tablet non a caso negli anni passati si creava una vera e propria versione acusticamente diversa per le radio e quindi per la trasmissione radiofonica quindi il radioedit non era soltanto un accorciamento del brano ma anche un mix leggermente diverso la maggior parte delle console di missaggio e molte DO utilizzano un'opzione di compromesso meno 4.5 dB di attenuazione centrale che è a metà strada tra i due ideali precedenti l'idea è quella di presentare un compromesso molto ragionevole con variazioni di livello minime man mano che la sorgente viene spostata sul palcoscenico indipendentemente dal formato di ascolto la maggior parte delle DO offre tutte queste opzioni e consente di selezionare la legge di penning specifica cioè l'attenuazione del centro in base all'applicazione tuttavia non tutte le DO hanno per default la stessa modalità di partenza e questo è uno dei motivi per cui i mix costruiti su DO diverse ma con impostazioni di father e pan apparentemente identiche possono suonare sottilmente ma sensibilmente diversi nel prossimo corso How to Mix che sarà disponibile presto spero scopriremo insieme come scegliere il pan per ogni strumento quando renderlo estremo e quando renderlo più vicino al centro in base appunto agli strumenti che compongono il mix lo stile musicale che produciamo e come movimentare le parti dell'arrangiamento agendo soltanto sull'uso del pen iscrivetevi quindi alla mia piattaforma di tutorial www.proaudiolearning.com e scaricate alcuni mini manuali gratuiti sulla creazione dei template e sulle basi della produzione per il momento è tutto ciao a presto spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online e sul sito proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering continuate a seguirmi su facebook, youtube e music off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella per il momento è tutto ciao a presto ciao a presto ciao a presto